di intervenire la senatrice di Girolamo ne ha facoltà. Grazie presidente. Onorevoli colleghi, oggi voglio prendere parola e riportare all'aula lo sdegno, risentimento e disappunto espresso da tanti cittadini italiani verso atteggiamenti irriducibili e irriverenti, posti in essere da un rappresentante dell'opposizione del quale non farò nomi ma certamente chi mi ascolta saprà a chi mi sto riferendo. Il negazionismo presidente è il peggior male di questi tempi. Il trend in aumento dei contagi da covid ci spinge a sensibilizzare tutti i cittadini ed in particolare i giovani al rispetto rigoroso della normativa sul distanziamento sociale o almeno questo è quello che ci suggerisce la logica. E invece c'è chi in perenne campagna elettorale nell'attesa dei pieni poteri non solo esprime e propaganda il negazionismo ma lo pratica, lo pratica anche. È dal 2 giugno che siamo costretti a subire assembramenti in totale spregio alle norme sul distanziamento sociale per un singolare capriccio, un capriccio dovuto alla necessità di tornare in campagna elettorale fatta di selfie irriducibili e irriverenti, anche questi. Tutti i cittadini sono stati e continuano ad essere molto attenti affinché il virus non torni a prevaricare sulle proprie vite. Il lockdown è servito proprio a questo ma ad un certo punto qualcuno ha deciso di essersi stufato di questo distanziamento sociale ed è tornato a creare assembramenti per strada e a mettere se stesso e gli altri a rischio da contagio. Usare una falsa politica, quella negazionista, che di politico ha davvero ben poco ed una totale prevaricazione sugli altri, solo questo, è avvertita come una minaccia per tutti. I cittadini che credono ancora nelle istituzioni ci chiedono a gran voce che siano tutti soggetti alla medesima legge. Non è possibile che un comune cittadino, se non rispetta il distanziamento sociale, è soggetto a multe, mentre se lo fa un rappresentante della politica allora esso ne risulta esentato. E chiedo attenzione su questo tema, Presidente, perché non è un mio capriccio, ma si tratta di sfatare quel senso di diseguaglianza nell'applicazione della legge, diseguaglianza percepita dal cittadino, che è stato rigoroso e che continua ad esserlo ancora oggi collaborando con lo Stato. La legge è uguale per tutti, questo è un dogma e un principio fondamentale. E allora perché le sanzioni le prendono solamente i cittadini comuni e non quei politici che ad esempio amano immortalarsi nei social, hanno usando cacciotte ad esempio nel caseificio pisano? E allora questi sono i comportamenti che spingono all'emulazione, soprattutto tipica a quella dei giovani, che è più ganso, è capace di infrangere le regole. Sto concludendo, grazie. E se lo fa lui posso farlo anche io ed è questo quello che dicono e poi è questo quello che fanno. Siamo a ridosso della riapertura delle scuole e stiamo vivendo una fase particolare in cui le attività ricettive danno il loro meglio per evitare il peggio e stiamo facendo tutti dei grandi sforzi. E qualcuno ha l'irriverente coraggio di annullarli completamente. Presidente, noi abbiamo due nemici invisibili oggi, uno si chiama Covid e l'altro si chiama ignoranza. Grazie.